Sì, l'avevo spostato qui avanti Era stata in un'esploda Struzzo, guarda, 2, 1, clutch, down the green, close, close Ok, non sezzo, appena c'è questo Ok, non sezzo, appena c'è questo Ok, non sezzo 500 Check Ok, non sezzo Sì Non sezzo Non sezzo Non sezzo 6 volti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, può procedere Eco November, stand 106, l'atterraggio 5,9. 5,9 grazie, noi se possibile andremo diretti all'aeroclub, abbiamo già coordinato per il pacchetto. Allora in questo caso cortosamente lo stop al Lima 1 all'ingresso del piazzale e coordiniamo per il follow me. Ricevuto, grazie, stop al Lima 1. Ok, after l'ingie, after l'ingie flabelli aperto. Vai tra, vai tra. Lima, ci sono i parcheggi, dove è Lima 1? Volta 1,709, ready to copy, clear. Volta 1,709, tower, backtrack, if you need line-up and wait to 8, confirm, ready to copy. Confirm, ready to copy, 9 up, backtrack to 8, Volta 1,709. Volta 1,709, tower, correct, you are clear destination, you need a 7 kg. Standard departure, climb initially 5,000 feet, squawk.